. Chuck Norris contro le case farmaceutiche, hanno avvelenato mia moglie Walker, Texas Ranger, Chuck Norris fa causa alle aziende farmaceutiche dopo la malattia della moglie Jenna. . L'attore di Walker, Texas Ranger, rivolgendosi alla Corte di San Francisco, ha chiesto un risarcimento di ben 10 milioni di dollari. La somma pare sia stata richiesta a causa dell'avvelenamento della moglie Jenna durante la sua malattia. . Secondo Norris la causa dell'avvelenamento è da imputare al liquido di contrasto che si utilizza quando ci si sottopone ad una risonanza magnetica. . A quanto pare, dopo essersi sottoposta per tre volte allo stesso tipo di esame, la moglie di Norris ha accusato dolori e fastidi alquanto estenuanti. . . La Radiological Society of North America non si sente responsabile dell'avvelenamento. . Norris ha affermato di aver trascurato il lavoro per stare vicino alla moglie, dunque chiede il risarcimento per il tempo perso e per le costose cure mediche da saldare. . . La Radiological Society of North America ha dichiarato che il liquido usato per la risonanza magnetica è stato già utilizzato per più di 100 milioni di pazienti, dunque esclude di essere responsabile dell'avvelenamento della moglie di Norris. . .